Inizio bisognerà ammetterlo il giorno che ho lasciato il mio villaggio, Capriana, nelle Drogomiti, il primo villaggio della Val di Fiemme, dove era un villaggio molto povero e pieno di emigrazione. A quel tempo, io parlo del, quando sono andato via, del 59, il 70 per cento della popolazione di Capriana era all'estero, la maggior parte erano in Svizzera, in Austria, in Germania e poi una piccola parte in Francia.